È stata una partita dura, forse la chiave è stata nel secondo tempo, quando si poteva fare qualcosa in più in termini di gol? Sì, nel secondo tempo abbiamo giocato decisamente bene, abbiamo avuto tante occasioni, siamo riusciti a sfruttarle, tra gli ultimi due minuti ci hanno fatto il gol del 2-1 e dopo comunque nel terzo tempo abbiamo lo stesso iniziato a spingere, abbiamo avuto tante belle occasioni, però siamo riusciti a segnare. Non vuol dire che comunque convince perché è mancato solo il gol oggi? Sì, ultimamente stiamo giocando bene, proprio come una squadra semplice, sì, il problema adesso è il gol, ne facciamo un paio, però con uno o due gol non è che vinci tutte le partite. Adesso il nostro obiettivo è ovviamente cercare di fare più gol nelle ultime partite e cercare di vincerle. È stato un gioco difficile, la tua prima impressione in Bozzano? La prima impressione del mondo è stata bella, il team è stato bello, e abbiamo solo un gioco di gioco e giocare un gioco di 60 minuti e sarebbero bene. E come ti senti la tua esperienza per le prossime settimane? La esperienza di sapere il nostro obiettivo e successivamente.